amiche amici di ciclo web non ve l'aspettavate di vedermi sbucare come una pianta di fagiolo da sotto ebbè vi dovevo far vedere il nuovo quadro di emanuela sergi cappucci bugna indurani li conoscete bellissimo quadro trovate su store punto ciclo web punto it andateci trovata anche tanti altri prodotti quadri poi sono magnifici questo anche in offerta di lancio ci vogliamo svenare per voi ciclismo anni 90 chi di voi non l'ha vissuto non sa cosa si è perso grande grande ciclismo grandi personaggi ed è proprio dal ciclo degli anni 90 che viene fuori il soggettone di cui vi parlo oggi per lo meno nella sua destra attuale quella di team manager patrick lefevere che partendo dalla squadra la gb che era associata alla mg in italiana e poi dopo successivamente alla mapei lui gestiva il blocco belga poi dopo quando ha chiuso la mapei nel 2003 ha ereditato tutto l'ensemble e col nome di quick step quindi dall'epoca da 15 anni c'è questa quick step che lo affianca ha portato avanti questa squadra portando la grandi vittorie a lanciare tanti campioni beh o allora lefevere è un soggetto veramente da prendere con le pinze è uno che si lamenta sempre sempre qualsiasi cosa succeda lui è il primo a lamentarsi a criticare a borbottare a brontolare c'è del maltempo sulla corsa lui si lamenta propongono di cambiare modificare il percorso da sanremo lui subito critico sacra c'è un cambio del regolamento lui sempre diminuiscono i corridori per squadra c'erano scandalo qualsiasi cosa l'altro giorno alla parigi tour in cui c'era un suo corridore terza che si giocava la vittoria poi arrivato secondo lui twittava durante la corsa questa è l'ultima volta che facciamo la parigi tour perché questo non ha niente a che fare col ciclismo su strada perché aveva forato gilbert su un settore disterrato ma insomma figlio mio o nonno mio prendila un po con filosofia lui è tremendo perché lui è un passatista proprio becero è un tradizionalista della peggior specie per lui tutto quello che c'era prima è meglio quello che viene dopo il nuovo è da guardare con diffidenza comunque da scansare penso che quando lui si sveglia la mattina il musonito pronto a brontolare già già gli da fastidio il fatto che sia una nuova giornata perché la nuova giornata era meglio ieri dice lui ma ieri avevi la gastrite la colite oggi invece stai bene non importa meglio la gastrite di ieri che questo schifo di oggi ma schifo perché perché è un uomo va beh lui è così è fatto così io non so di cosa si possa lamentare onestamente adesso uno come l'effever che fa il lavoro per noi appassionati il lavoro più bello del mondo quale può essere un lavoro più bello del gestire una squadra di ciclismo piena di campioni tra l'altro allora vi faccio in breve insomma un excursus di quello che fa un team manager o comunque uno che sta nel ciclismo allora intanto sei sempre via da casa vedo poco la famiglia ma la famiglia è contenta di non averti tra le scatole tutto il tempo vai 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 sei sempre in giro vedi dei posti bellissimi fai una vita lussuosa perché tra l'altro lo status di l'effever porta poi a questo viaggiare per alberghi di lusso avere tutti gli agi ristoranti fai la bella vita dai poi sei nel ciclismo a parte a parte il girare a parte il fare il turista ma poi sei nel ciclismo ti occupi della tua passione e di uno sport tra l'altro quindi divertente anche da seguire poi quando vinci c'è l'esaltazione ma cosa c'è di più bello vivere il ciclismo da dentro a me è capitato qualche volta di seguire delle gare diciamo da giornalista embedded cioè nella carovana e quindi ero negli alberghi nei ristoranti con i corridori con tutto lo staff il seguito ed era divertentissima è una cosa bellissima dai è una realtà diciamo una bolla di realtà diversa a parte completamente sganciata perché tu quando sei lì dentro nel ciclismo tu non sai poi nulla di quello che succede fuori ti basta quello che hai e si vive di ciclismo si respira ciclismo tutti i minuti tra l'altro uno dei due argomenti di conversazione tutto il giorno si parla di ciclismo la sera quando ci si siede a tavola ciclismo 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 bellissimo il secondo argomento di conversazione ci arrivate da voi essendo un ambiente sostanzialmente maschile diciamo 98 99 per cento forse formato da uomini beh quale può essere l'argomento di conversazione la letteratura bizantina quindi questi due argomenti ciclismo e letteratura bizantina fanno la felicità è come stare in una sala giochi sempre cosa vuoi di più cosa vuoi di più e tu e tu vivendo questo contesto da una posizione comunque di privilegio tu sei sempre lì a lamentarti per ogni santa cosa ma ma renditi conto di quanto sei fortunato l'effever allora perché esce fuori oggi questo l'effever perché ieri finalmente dopo una ricerca infruttuosa durata due o tre anni addirittura l'effever ha trovato un nuovo sponsor per la sua squadra che affianchi quick step perché non va via resta fedele però in veste di secondo sponsor e come già aveva fatto qualche volta negli anni scorsi ha trovato un nuovo sponsor the seo link è un'azienda che fa porte finestre infissi uno dei motivi per cui in questi anni l'effever era sempre lì a menarla a lamentarsi era che non trovava sponsor è possibile una squadra come la quick step non trova sponsor questo la dice lunga sul ciclismo è colpa di frum del suo caso che ha una ricaduta negativa sempre colpa di sempre qualcuno da criticare lui lo trova sempre allora io mi chiedo ma è possibile che in belgio patria del ciclismo una delle patrie storiche del ciclismo insieme alla francia l'italia economicamente però sta più avanti rispetto all'italia più ricco come paese ha più investitori in cui girano un sacco di soldi sul ciclismo ci sono altre squadre professionistiche la lotto soldi ma anche un mare di professional campioni seguitissimi un sacco di soldi vengono investiti buttati diciamo proprio buttati nel senso buono nel ciclo cross prendi vot van hart se lui si sposta dalla cucina al bagno di casa c'ha comunque il codazzo di gente con la valigetta dice ti sponsorizziamo ti facciamo la squadra vuoi cambiare squadra ti diamo le biciclette è così in belgio c'è un sacco di soldi che girano intorno al ciclismo e voi mi volete far credere voi patrick lefevere mi vuoi far credere che la squadra quick step la più forte una delle più forti del mondo quest'anno 70 vittorie piena di campioni gente simbolo del ciclismo philippe gilbert campioni di tutte le latitudini gabiria la philippe tantissima gente elia viviani tu mi vuoi far credere che non trovi un uno che investa in una squadra del genere protagonista sempre sempre l'attacco visibilità massima in tutte le in tutte le cose cui partecipano classiche le domina i grandi giri magari non li vinci ma è comunque sempre o in fuga o a vincere tappe quindi è sempre la squadra sulla bocca di tutti tu mi vuoi far credere che non trovi uno sponsor dai come si dice in ambiente aziendalistico nel milieu aziendalistico se non sei parte della soluzione vuol dire che sei parte del problema e allora io mi pongo questo quesito caro lefevere ma sei sicuro che il problema non sei tu ma effettivamente chi vorrebbe avere a che fare con te tutti i giorni per lavoro deve essere una cosa veramente da martellarsi gli zebedei tutto il tempo allora è questo è questo il problema da qui sei tu dai ora hai trovato finalmente uno sponsor che ti sopporterà per tre anni tieni del bello stretto caro proprio fra tre anni quando scade il contratto nell'ottica poi magari di rifare l'accordo per allungare questo contratto di sponsorizzazione prendi anche in esame l'ipotesi di farti un po da parte per le fevere del 55 ha già 63 anni fra tre anni ne avrà 66 potrà placidamente serenamente non conoscendo andare in pensione comunque lasciare il posto in ammiraglia o dietro la scrivania a qualcuno di più giovane ma non è tanto una questione di età a qualcuno di meno brontolone insomma di più positivo abbiamo bisogno di gente positiva non di questo non va bene questo non si fa ma basta dai ora per favore fai un tweet di proteste contro questo video me lo aspetto e se non lo fai ti guerelo ciao da ciclo web ciao 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 ciao